Allora ragazzi, benvenuti. Questa è la seconda lezione del corso di Psicologia Generale per l'ICUS e come avevamo anticipato, oggi l'argomento che tratteremo è quello del cervello, o meglio, del sistema nervoso, sarebbe più corretto, partendo da degli elementi di microanatomia, quindi parlando proprio delle cellule, della base, dell'elemento costitutivo di base. Di questo fantastico sistema, un organo molto particolare, alla fine cercheremo anche di fare un po' una considerazione che va al di là della semplice neurofisiologia, e arriveremo a spiegare quali sono invece le sue suddivisioni strutturali e funzionali nella ramificazione più ampia che il cervello ha all'interno del nostro corpo, cioè il sistema nervoso che chiamiamo periferico. Per fare questo avremo bisogno, in qualche modo, di andare a snocciolare alcuni degli elementi che sono le leggi, i modelli, le teorie, le regole, se volete, della neurofisiologia, cioè della fisiologia, il funzionamento a livello biologico, delle strutture cerebrali, in particolare, adesso vedremo, ci concentreremo subito su cosa, in questa nostra introduzione alla neurofisiologia. Ci concentreremo ovviamente sul protagonista principale della nostra storia, che è il neurone. Il sistema nervoso della nostra specie è composto da un numero essenzialmente variabile di tra gli 86 miliardi e 100 miliardi di queste celluline che chiamiamo neuroni. Allora, il neurone è particolare, particolare un po' per la storia della sua scoperta, perché, come dire, sono stati diversi a un certo momento della storia della neurologia, della storia della medicina o della psicologia, a potersi freggiare di aver scoperto il neurone. Persino Sigmund Freud, prima di dedicarsi ai bambini che secondo lui volevano fare l'amore con la mamma, era un grandissimo neuroanatomista e si occupava essenzialmente di studiare i neuroni in animali particolari, come per esempio le anguille. Addirittura sappiamo che dai suoi taccuini, lui in realtà una mezza idea ce l'aveva già del fatto che ci esistesse questa cellula, proprio come le altre cellule all'interno del sistema nervoso. In realtà le osservazioni che confermano l'esistenza del neurone arrivano un po' più tardi, cioè arrivano proprio intorno all'inizio del XX secolo, e poi verranno confermate e ampliate da un famoso dibattito, o se vogliamo anche, come posso dire, una baruffa, tra due importantissimi anatomisti, neuroanatomisti che sono l'italiano di Pavia Camillo Golgi e lo spagnolo Santiago Ramonica Cal. Su questa storia ci torneremo più avanti perché ha a che fare non tanto con il neurone in sé per sé, quanto con i collegamenti tra i diversi neuroni. In ogni caso c'è una cosa da tenere a mente che è fondamentale, anche se i neuroni sono le uniche cellule del corpo che noi chiamiamo con un nome loro. Noi non le chiamiamo le cellule nervose, gli abbiamo dato proprio un nome, i neuroni. Forse anche un po' perché intimamente ci siamo subito resi conto dell'importanza di queste cellule. È fondamentale ricordare che, proprio come regola biologica, le cellule sono tutte quante uguali. Ricordate un pochino gli appunti da scuola superiore su come è fatta una cellula? Una cellula è un elemento fisiologico costituito da una membrana che la separa dalle altre cellule o eventualmente dall'ambiente extracellulare, che può essere un liquido. Pensate al sangue, no? I globuli bianchi e i globuli rossi sono delle cellule che si muovono all'interno di un fluido, insieme a tante altre cellule, le vedremo anche oggi all'interno dei vari sistemi del corpo. Tuttavia, nei neuroni si nota, forse più che in altre cellule, un ipertrofismo funzionale, che significa, facciamo un po' di etnologia, no? Ipertrofismo significa che la forma è esagerata, è ampliata, è superiore a una norma stabilita, e questo ipertrofismo, cioè questa differenza nella forma della cellula, è legata al funzionamento della cellula stessa, del neurone stesso. Qual è il compito che hanno i neuroni all'interno del nostro organismo? Quella di trasmettere e ricevere degli impulsi. Per questo motivo, se noi andiamo a vedere proprio come è fatto il neurone, di cosa ci accorgiamo? Ci accorgiamo che, beh, ovviamente tutti i suoi confini, i suoi bordi esterni, sono costituiti dalla membrana, che come vedremo fra un po', al pari delle altre membrane, è costituito da una serie di molecole lipidiche, quindi grasse, disposte in un particolare ordine, inframezzate da particolari dispositivi cellulari, che sono fondamentali affinché il neurone possa lavorare come si deve, dopodiché c'è un corpo cellulare, in cui c'è un nucleo che contiene l'informazione genetica, e degli organelli che si occupano di svolgere vari compiti, dalla sintesi di specifiche proteine, a gestire l'attività elettrica, l'attività metabolica del neurone, e infine abbiamo questa, come dire, caratterizzazione ipertrofica in delle strutture che circondano da un lato e dall'altro il soma, cioè il corpo cellulare. Abbiamo, a un'estremità, diciamo, iniziale, in ingresso, ora capirete perché sto usando queste espressioni, tante, al plurale, ramificazioni cellulari chiamate dendriti, da dendros, che significa albero, in greco antico, anche in greco moderno mi sembra, che sono molte, o comunque possono essere più di una, molte ramificazioni che sono deputate a raccogliere da tutti gli altri neuroni che arrivano fino a loro le informazioni trasmesse dai neuroni precedenti, vedremo più tardi che si chiamano neuroni presinaptici, perché tra due neuroni c'è sempre questa fessura chiamata sinapsi. Invece dall'altra parte, diciamo, nella parte terminale, c'è un unico grande prolungamento che si chiama assone, e l'assone è uno, non sono tanti. Questa è già una regola che possiamo tenere a mente, che è particolarmente importante, ora vedremo perché è così importante questa cosa. Anche se è vero che un assone, a un certo punto, al suo termine si può dividere in tante protrusioni, in tante screscenze che si chiamano bottoni, l'assone è sempre uno solo. Queste strutture già di per sé sono in grado di spiegarci molto di quello che succede, però visto che non ci piace troppo separare le differenti parti, i differenti aspetti, ma vogliamo avere da subito un quadro d'insieme che magari ci aiuta a capire come funziona questo cervello, vi faccio subito notare una cosa. L'assone, forse questo già lo sapete, ne parleremo comunque più avanti, è ricoperto da una specie di protezione, fatta di nuovo da un'altra sostanza grassa, una proteina che si chiama mielina, la mielina non è una proteina, è una sostanza grassa proprio, che ricopre, come se fosse la schermatura di un cavo, di una cuffia, il lassone e questo vedremo ha delle funzioni molto importanti per la trasmissione del segnale. Però, se leggete la slide che stiamo vedendo adesso, vi accorgerete che questa guaina mielinica è sempre associata a dei nuclei che si chiamano nuclei delle cellule di Schwann. Ora, queste cellule di Schwann sono un'altra categoria di cellule che fa parte del sistema nervoso e che più in generale noi chiamiamo le cellule gliali. Le cellule gliali sono le altre cellule che compongono il sistema nervoso, meno a livello centrale sicuramente, insomma poi ci sono anche fuori dal sistema, fuori dal centrale. Le cellule gliali, o anche dette glia, sono delle cellule molto particolari, perché quando le abbiamo osservate per la prima volta, e vi assicuro, osservare il cervello non è affatto un compito facile, ragazzi, già non è facile in generale osservare nessun organo interno, anche al microscopio. Il cervello è particolarmente ostico a questo riguardo. Quando però inventammo le tecniche per isolare, almeno visivamente, i neuroni, ci rendiamo conto che intorno ai neuroni c'erano parecchie di queste altre cellule che non avevano la struttura e la funzione del neurone e che noi, pensando che fosse una specie di impalcatura, una specie di sostegno del neurone, una specie di cuscinetto del neurone, chiamiamolo in una maniera, come dire, se volete abbastanza riduttiva, la chiamiamo la glia, che in greco vuol dire la colla. Pensavamo che fosse la sostanza collosa che teneva in piedi, che teneva bloccati tutti quanti gli altri neuroni. In realtà noi oggi sappiamo che le cellule gliali hanno un ruolo fondamentale all'interno della vita del nostro sistema nervoso. Intanto perché, per esempio, le cellule di Schwann, che sono una parte della glia, sono quelle responsabili per la produzione della mielina. E quando la mielina non viene prodotta, come forse avete già sentito, un neurone non mielinato, in maniera patologica, è un neurone che ha la famosa malattia della sclerosi. La sclerosi che cos'è? La perdita, la demilinizazione patologica dei neuroni, con tutte poi le conseguenze cliniche che questa condizione può portare. Ci sono poi altre cellule importanti, per esempio gli oligotendrociti, gli astrociti, la microglia, che hanno compiti fondamentali, per esempio il compito immunitario. Per esempio gli astrociti spesso agiscono come dei veri e propri macrofagi stanziali, no? Rimangono fermi lì ad aspettare che tutti quanti eventuali prodotti di scarto, tossine, cose che non dovrebbero stare in circolo, passino per là, le prendono e poi le neutralizzano e le spellono. Ci sono anche una serie di cellule gliali che sono esclusivamente deputate, per esempio, a eliminare i rifiuti di scarto del metabolismo del neurone. E noi oggi sappiamo che, per esempio, la malattia di Alzheimer, provocata da un accumulo patologico di due proteine che si chiamano beta-amiloide e tau, il motivo per cui queste proteine si accumulano è che a un certo punto la glia non è più in grado di gestire il loro smaltimento. Quindi vi rendete conto che anche se non sono neuroni, le cellule gliali svolgono un ruolo diretto e indiretto rispetto alla cognizione che è un ruolo fondamentale. Pensate alla conseguenza della patologia. Detto questo, però, noi non ci concentreremo troppo sulla glia se non quando ci servirà, ci concentreremo in realtà proprio sul neurone. E che cos'è che dobbiamo sapere? A parte ce lo siamo già detti, ma ricapitoliamolo perché aiuta sempre, no? Allora, noi abbiamo dei dendriti nella parte terminale che sono, per l'appunto, preposti a raccogliere i segnali che provengono dagli altri neuroni oppure, faccio un esempio, nel caso dei neuroni tattili della mano, i dendriti sono anche le strutture che comunicano con i recettori sensoriali immediatamente adiacenti per dire alla prima cellula nervosa che poi manderà il segnale guarda, stai toccando con una certa pressione o meno. Il corpo, di nuovo, l'abbiamo già detto, ma è la parte centrale della cellula dove, ad esempio, anche grazie all'azione di un organello come il mitocondrio il neurone è in grado di poter emettere una scarica elettrica. Abbiamo questo lungo assone che è la vera e propria autostrada del segnale d'azione e infine, al termine dell'assone, queste terminazioni o bottoni sinaptici che andranno a mettersi in maniera adiacente, seppur non toccandosi direttamente, vedremo perché questo è fondamentale, con il neurone successivo. Ora, ci sono due cose che bisogna tenere a mente in questo caso. La prima considerazione da fare è che il neurone è una macchina perfetta per poter rispondere a delle sollecitazioni di tipo elettrico-chimico che provengono da fuori di sé e propagare, replicandolo oppure sparando ex nilo, un segnale chimico-elettrico che ha avuto modo di sperimentare. Ok? Come se fosse, non so se ve lo ricordate, non so come state messi con le vostre età, però non so se vi ricordate che la cosa di siamo fatti così, il cartone siamo fatti così, a un certo punto i neuroni come erano rappresentati? Erano rappresentati come una specie di staffette che continuavano a correre e si passavano un segnale. Ecco, in effetti l'analogia non è sbagliatissima perché i neuroni fanno questa cosa qui. C'è una cosa però che bisogna ricordare, è la seconda caratteristica fondamentale, il neurone spara, mi sentirete usare spesso questo termine perché noi anche in inglese diciamo that a neuron fire, cioè un neurone spara, è il termine che poi si usa normalmente per indicare la scarica dell'impulso, il neurone spara sempre in una sola direzione e questa direzione è a partire dal dendrite verso la fine dell'assone. Non si torna mai indietro, non esistono neuroni che possono decidere di far partire il potenziale dall'assone verso il dendrite. Questo forse qualcuno di voi se ne rende già conto così in maniera intuitiva e empirica è fondamentale perché se queste fossero delle cellule in cui il segnale può andare da una parte all'altra tutta una serie di catene di impulsi che poi sono le catene di impulsi che normalmente ci permettono di ragionare e di pensare avrebbero come dire molta più confusione e la nostra cognizione non potrebbe essere così precisa. Ok? Detto questo la domanda successiva è la seguente. Voi direte Mattia tu ci hai detto questo neurone è una cellula fatta per sparare sparare in una certa maniera in una certa direzione ma questo sparare che vuol dire e com'è possibile soprattutto allora ricordate che io prima vi dicevo tutte le cellule hanno una membrana che è una membrana di tipo lipidico è una membrana grassa perché è una membrana grassa? Di solito le cellule sono sempre immerse in un ambiente extracellulare che è liquido forse qualcuno di voi ricorda qualcosa dagli studi di chimica delle scuole superiori l'acqua è il miglior solvente che esista al mondo ma ovviamente l'acqua può sciogliere tutto tranne i grassi in questo perché c'è un vecchio principio in chimica si dice che il simile scioglie il simile il motivo per cui noi possiamo togliere l'unto dalle padelle soltanto con dei tensioattivi oppure versandoci del sapone che non a caso si fa con i grassi è perché è il grasso che prende che attira a sé e si lega con gli altri grassi la membrana di un neurone come quella di tutte le altre cellule è grassa perché isola l'ambiente interno dall'ambiente esterno ma come vi dicevo ancora prima in realtà lungo la membrana esistono una serie di canali che sono delle proteine sono dei piccoli complessi proteici che noi chiamiamo le pompe perché le chiamiamo pompe? perché queste proteine che stanno sulla membrana hanno una funzione la funzione è permettere l'ingresso o costringere l'uscita di alcuni molecoli molecole o atomi che stanno all'interno della cellula o fuori dalla cellula affinché la cellula possa funzionare ok? questa è una cosa che è abbastanza se voi ci pensate a livelli di fisiologia generale è abbastanza semplice no? voi pensate a una cellula quando deve essere irrorata dal sangue ok? la cellula che è irrorata dal sangue sulla mia mano in questo momento non è che dentro la cellula c'è una specie di tangenziale di Roma Est un capillare che entra dentro la cellula e comincia a sparare il sangue il sangue ci gira intorno alla cellula e poi ci sono alcune pompe che per esempio permettono lo scambio di ossigeno o rilascio da nitride carbonica oppure ancora prendiamo un altro esempio le ghiandole no beh le ghiandole forse stiamo andando anche in maniera troppo esagerata diciamo che le cellule hanno questa possibilità attraverso le pompe di scambiarsi degli elementi chimici che in questo caso vedremo sono degli ioni per delle funzioni che sono particolari a volte metaboliche a volte di nutrimento nel caso del neurone noi dobbiamo tenere d'occhio in particolare questa pompa che si chiama pompa sodio potassio che è la pompa fondamentale per lo scambio di questi due ioni caricati in senso positivo Na più e K più che sono responsabili del meccanismo del principio del meccanismo del potenziale d'azione se voi vedete questa immagine io cerco di raccontarvela brevemente attraverso questo piccolo video che sto mandando che cosa avviene questa membrana quella che vedete in verde ha il compito di separare l'ambiente interno della cellula dall'ambiente esterno nell'ambiente esterno e nell'ambiente interno girano degli ioni per l'appunto quindi delle particelle che sono cariche da un punto di vista elettrico che a un certo momento legandosi a questa pompa possono determinare una sorta di meccanismo di come posso dire di gettito a scambio per cui la membrana espelle tutta una serie di ioni del sodio o del potasso oppure li fa rientrare in certi momenti per cambiare il voltaggio della membrana questo per farvi capire però vorrei dirvelo in qualche termine mi rendo conto che la neurofisiologia non è sempre la cosa più semplice per chi non ha studi come dire biologici alle spalle voi immaginate avete mai visto i tester quelli per testare come dire se una presa funziona sono quelle macchinette che hanno due bastoncini di ferro si appoggia il bastoncino di ferro da una parte da un'altra parte e si vede qual è la differenza tra potenziale ok diciamo che all'interno della cellula all'interno del neurone il neurone di solito è fondamentalmente come dire non ha un voltaggio neutro di solito sta sotto i meno 45 millivolt ok rispetto all'ambiente esterno c'è una differenza di potenziale cioè il neurone è caricato elettricamente diversamente da quello che c'è fuori da lui ok questo fa sì che se determinate sostanze in questo caso degli ioni di sodio entrano a contatto con le pompe a un certo punto si può provocare una reazione tale per cui la membrana si depolarizza e questo accumulo che ora non è come dire che marca il passaggio tra uno stato di riposo a uno stato d'azione questo accumulo di particelle elettriche danno vita a una scarica di un segnale ok non so se è un po' più chiara questa cosa qui diciamo che per ricapitolare anche perché poi non è che mi interessi il fatto che voi sappiate le technicalities di questo meccanismo quell'unica cosa che mi interessa ricapitolando è che voi capiate che la membrana di un neurone gli permette attraverso uno scambio tra atomi caricati elettricamente a un certo punto di creare una specie di accumulo di massa e di sparare un'onda elettrica ok ci siamo su questo è abbastanza chiaro così fatemi dei cenni con la testa così vi vedo c'è qualcuno che fa così allora aspettate ci riprovo ancora una volta magari vado avanti con le slide e cerco di spiegarvelo un po' meglio allora il fatto che i neuroni siano in grado di emettere un segnale elettrico è dato dal fatto che a seconda del fatto che questi canali sulla membrana si aprano o si chiudono possono spostarsi delle particelle cariche elettricamente o da fuori al neurone a dentro il neurone e viceversa quando voi fate questo sbalzo di potenziale succede che a un certo punto la membrana c'ha talmente tanta corrente su se stessa che lancia un segnale elettrico verso la fine dell'assone ok ci siete in realtà adesso che ho provato a spiegarvela semplicemente certo prego allora allora l'attivazione della pompa Giulia è data essenzialmente da due da due fattori ci può essere un contatto diretto di sodio o di potassio questo per esempio se tu compri un calamaro fresco in pescheria e ci metti sopra della salsa di soia che come sai è molto piena di sodio di glutammato molto salata la salsa di soia vedrai che il calamaro comincerà a muovere tutti i tentacoli come se fosse vivo perché perché tu hai versato del sodio direttamente sui suoi nervi e questo è il motivo per cui il neurone spara pensa per esempio perché il sale fa sentire dolore su una ferita aperta se lo metti su un nervo aperto perché costringe il nervo a sparare ok e hai messo quindi da un lato c'è un'attivazione di tipo chimico legata proprio al sodio al potassio dall'altro lato ci sta una particolare classe di molecole che studieremo però un pochino che si chiamano neurotrasmettitori che sono in grado di dire a una cellula che viene dopo preparati a sparare oppure cerca di trattenerti e non sparare ok diciamo che essenzialmente questi sono i due potenziali che sto per spiegarti adesso cioè il segnale di un neurone si può generare o per dei potenziali graduati per esempio delle molecole anche che ne so una droga che colpisce quel neurone là e quindi come dire lo eccita o lo inibisce rispetto a questo meccanismo di depolarizzazione e poi possiamo avere un altro potenziale che si chiama potenziale d'azione che è questa schicchera questa onda che il neurone spara nel momento in cui arriva a una certa soglia di tolleranza nei confronti di questi stimoli che arrivano dall'esterno ok non so se mi sono spiegato diciamo che essenzialmente le membrane sparano per dei motivi di tipo chimico ok ci possono essere delle sostanze chimiche prodotte dall'organismo o introdotte dall'essere umano all'interno del suo stesso organismo che aumentano o diminuiscono la possibilità che queste pompe si aprano e si chiudono ok però in generale se vuoi il meccanismo biochimico di base è dato da uno scambio tra sodio e potassio è uno scambio tra sodio e potassio cioè si spostano dimmi sì no la pompa non è sempre aperta la pompa è sempre disponibile ad aprirsi però deve arrivare una certa soglia deve arrivare a una certa soglia lo stimolo per aprirsi guarda ti faccio un esempio mettiamo che questo sia di avere un neurone ok che è immerso all'interno del suo ambiente extracellulare e quindi come dire intorno a sé ha molecole di sodio e di potassio ok a un certo momento questo neurone si ritrova ad avere il neurone che sta prima di lui che gli dice abbassa la soglia abbassa la soglia abbassa la soglia perché io sto sparando devi sparare pure tu là si abbassa la soglia perché tante piccole molecole si attaccano alla membrana intorno alla membrana ci sono ancora gli stessi ioni di sodio e di potassio però la membrana ha meno resistenza e a un certo punto arrivata a una certa soglia avviene lo scambio che ora comunque vedremo nel dettaglio con un grafico così magari capite sempre di più come funziona questo meccanismo e questo scambio attiva la scarica guarda faccio così così magari ti aiuta definitivamente Giulia questo qua è lo schema di un potenziale d'azione ok allora noi diciamo che normalmente il il neurone a riposo cioè quando sta a riposo sta in una posizione in un voltaggio di meno 70 millivolt ok questo significa che se io mettessi un elettrodo nel neurone e un elettrodo fuori dal neurone mi renderei conto che c'è una differenza di 70 millivolt tra l'ambiente di fuori e l'ambiente di dentro ok ci sei fuori è zero invece dentro dal neurone è meno 70 millivolt a un certo momento grazie all'azione degli ioni sodio e potassio e dei neurotrasmettitori succede che la membrana comincia a far passare tutta una serie di atomini e di molecoline dentro al neurone che abbassano in realtà la alzano su questo grafico ovviamente perché da meno 70 si passa a meno 50 abbassano questa differenza tra la corrente che sta fuori e la corrente che sta dentro a riposo è meno 70 quando si comincia a stimolare chimicamente il neurone questa soglia sale piano piano fino ad arrivare a meno 50 a meno 50 succede un fenomeno che è il fenomeno di base della neurotrasmissione cioè le pompe sodio e potassio si aprono completamente e per un breve istante che è quello disegnato da questa curva che vedete c'è una fortissima depolarizzazione che vuol dire vuol dire che da meno 70 si passa a circa più 30 più 35 millivolt indicativamente quindi c'è un salto di circa 105 millivolt no? ok? in un tempo rapidissimo parliamo di circa 2 millisecondi e il neurone si carica scusatemi si carica tantissimo nel senso che si depolarizza fa partire quest'onda dopodiché le pompe sodio potassio rimandano indietro anche in maniera più esagerata tutto quello che era entrato e ristabiliscono questo momento di equilibrio che noi chiamiamo potenziale a riposo ok? questa curva che voi vedete è la scarica del neurone che sta per partire ok? anzi che è partito in realtà una cosa interessante da tenere a mente è che dopo che ha sparato un neurone per un periodo relativamente breve di circa un millisecondo non è in grado di sparare di nuovo vedete dove c'è scritto potenziale a riposo c'è la curva che si abbassa sotto i 70 no? ok? e questo periodo è chiamato iperpolarizzazione noi lo chiamiamo anche il periodo refrattario perché? perché il neurone in quel periodo anche se tu lo bombardi di sale comunque non sparerà perché si sta riassestando per l'appunto ok? quindi diciamo che a partire da elementi di scambio chimico fisico-chimico il neurone è in grado a un certo punto di sparare una corrente elettrica ossia che ragazzi non è che questa cosa fanno solo i neuroni eh? cioè quando voi muovete un muscolo non è che le questioni sono così differenti c'è sempre una scarica di membrana ma le membrane come dire la capacità delle membrane di sparare non è qualcosa che avviene solo nei neuroni nei neuroni è particolarmente interessante perché il meccanismo della scarica del segnale elettrico è sempre descritto da questa curva qui ok? fatemi vedere un po' le vostre facce fatemi vedere se qualcuno è già devastato prego Giada dimmi sì ok Allora, la domanda capisco cosa hai chiesto, cerco di riformularla. Che cosa comporta per la nostra vita psichica il fatto che il neurone abbia un periodo refrattario? Niente, assolutamente niente, perché non c'è modo che noi possiamo... Il linguaggio dei neuroni, intanto il neurone non parla solo elettricamente, questa è solo una parte della sua trasmissione. Non c'è comunque modo di poter spiegare il livello della psiche cercando di trovare degli indizi nel funzionamento di un singolo neurone. E' importante che il neurone abbia un momento di potenziale riposo essenzialmente per delle ragioni di ordine logistico della comunicazione. Se un neurone sparasse sempre a un certo punto morirebbe, perché non avrebbe il tempo di gestire gli equilibri chimici interni e esterni a lui. E' diciamo però sbagliato, ma questo forse è un discorso che devo fare come premessa generale. Senza neuroscienze non esiste la psicologia scientifica, cioè le neuroscienze sono fondamentali per capire come funziona la nostra mente, non solo il nostro cervello, ma in nessun modo sentirete mai da me dire che spiegando il neurone spieghiamo la mente. Sarebbe come cercare di spiegare il dito di una persona per spiegare la società occidentale. Capito? Certo, la maggior parte di noi scrive delle mail e comunica con le dita, ma il funzionamento del dito è un misero strumento di bassissimo livello. Poi il neurone è una cellula meravigliosa, nel senso è un'architettura funzionale elegantissima, si vede proprio che è uno dei migliori prodotti dell'evoluzione per selezione naturale senza dubbio. Però il funzionamento di un neurone, puoi spiegare solo il funzionamento di un neurone. Pensa che i neuroni sono circa 100 miliardi e non è neanche tanto importante il fatto che 100 miliardi di neuroni sparino tutti a sta maniera, quanto sono importanti i loro collegamenti. Quindi diciamo che è una questione più di ordine fisiologico. E se volete è anche una questione di ordine di questo discorso, perché un'altra cosa importante da sapere rispetto ai neuroni è che i neuroni seguono una legge che noi chiamiamo il principio del tutto o del nulla, all or nothing principle, che è una legge fisiologica scoperta da un grandissimo studioso inglese che era Lord Edgar Adrian, che a un certo punto si rende conto di una cosa. Il neurone o spara in quella maniera lì, oppure non spara. Vediamo se questo poi vi aiuta anche un attimo a capire, a finire questo discorso che facevamo sullo scambio degli ioni. Un neurone ha un certo grado di tolleranza, all'incirca meno 20 millivolt di tolleranza elettrica rispetto alle stimolazioni che ci stanno. Fintanto che stiamo in quel range là, cioè quello che abbiamo visto prima, no? Dallo stimolo a riposo, la lineetta blu, fino alla soglia, che è la lineetta gialla, che cosa avviene? Avviene che il neurone in quella fascia sta là tranquillo, non fa niente. Quando però la differenza di potenziale tra dentro e fuori arriva a meno 50, allora il neurone parte e spara e fa quella curva lì. E, cosa molto importante, ogni neurone del nostro corpo fa esattamente quella curva lì. In che senso? Nel senso che il potenziale d'azione è quello, lo sbalzo di tensione che vedete. Questo è importante perché? Perché per un certo momento della storia noi abbiamo pensato che i neuroni fossero in grado di rispondere con grande libertà, no? Abbiamo pensato, se io prendo questo spruzzino disinfettante anti-Covid, appoggio il mio dito contro di esso e spingo più forte, i neuroni staranno sparando molta più corrente. No, i neuroni sparano sempre quell'onda di corrente là, ok? Non c'è modo che possano farlo di più o di meno. Al massimo possono, eventualmente, sparare più frequentemente, ok? Noi sappiamo che abbiamo un periodo di un millisecondo refrattario, però dopo il neurone può decidere di sparare subito, oppure di sparare dopo altri due millisecondi, ok? L'unica differenza che passa nella comunicazione elettrica del neurone può essere la frequenza della sua scarica, ma mai l'intensità della sua scarica. Cioè questa curva che vedete prima di potenzializzazione può riprodursi, che ne so, cento volte in un secondo o mille volte in un secondo, ma l'ampiezza della curva e quindi l'intensità elettrica della scarica è sempre questa qua. Ok? Ci siamo su questo? Vi torna? Ok. Allora, questa parte che ci siamo appena ritti, cioè questa qua del principio del nulla e del potenziale d'azione, è un meccanismo in realtà particolarmente bello, elegante, poi l'abbiamo studiato come dire su un organismo modello Zachary Young, sul calamaro gigante. Il calamaro gigante è un organismo modello in neuroscienze perché ha un neurone che si vede a occhio nudo, quindi abbiamo proprio potuto vedere, abbiamo proprio potuto infilarci lì dentro gli elettrodi per vedere questa differenza di potenziale, per capire come funzionava. Questo vale per tutti i neuroni, quindi sia per neuroni che sono grandi 2 micron, sia per neuroni come quelli che muovono per esempio la mia caviglia destra, che sono dei neuroni che hanno un assone di circa 2 metri. Ora, io non so se qualcuno di voi ha mai fatto elettricista o ha mai dovuto fare un lavoro a casa, però una cosa abbastanza nota all'interno del mondo dell'elettrotecnica è che cosa c'ha un cavo di rame per garantire che il segnale non si disperda? C'ha una guaina intorno di plastica. Il cavo perché c'è? Per evitare che prendiamolo a 220, ma anche per fare in modo che il segnale che parte da un cavo di 10 metri arriva anche alla fine dei 10 metri. Altrimenti il segnale si disperde. Se voi prendete un cavo elettrico e lo lasciate scoperto già nell'aria, che cosa vedete intorno a lui? Vedete delle piccole scariche di corrente perché cosa sta succedendo? La corrente che passa comunica anche con gli elettroni che stanno nell'aria. I neuroni sono fatti alla stessa maniera dei cavi coperti da una protezione in plastica, solo che la loro protezione è un'altra cosa, è questa sostanza grassa che vi dicevo prima, che si chiama mielina. La mielina protegge l'assone e contemporaneamente assolve un'altra funzione. E quest'altra funzione è quella di isolare il segnale elettrico, il messaggio elettrico che sta passando nel neurone dopo che si è avviata la scarica del potenziale di azione. Ci siete su questo? Una cosa interessante che vi fa capire quanto la natura sia, come dire, veramente... Non c'è neanche bisogno di dover per forza credere che dietro ci sia un architetto dietro a questo meraviglioso disegno. Basta l'evoluzione in realtà, come dire, la enzia non sunt moltiplicanda. Lo citiamo di nuovo, Ockham. Perché, a differenza dei cavi costruiti dagli esseri umani e ricoperti di guaine, di plastica, di materiale plastico dagli esseri umani, la mielina è organizzata sull'assone, disposta sull'assone, in questa strana maniera che voi vedete qui nell'immagine. Cioè l'assone ha la mielina come se fosse una catena di salsicce. Cioè ci sono dei punti in cui la mielina non c'è, dove sarebbero i nodi delle salsicce. Della triccia di salsicce. Questi nodi, questi punti non mielinati, si chiamano nodi di Ranvier, dalla persona che li osservò la prima volta, dal neuroanatomista che li osservò la prima volta. Che cosa sono i nodi di Ranvier? Questa è una cosa bellissima. Sono dei punti in cui, non essendoci la guaina mielinica a isolare il neurone tra dentro e fuori, lo scambio di ioni tra dentro e fuori, la membrana, quindi qua come se ci fossero tante pompe sodio-potassio, permette al segnale, anche su percorsi molto lunghi, di rigenerarsi di nuovo. Perché in questi punti dove non vedete la mielina, che cosa ci sono? Ci sono dei punti in cui la membrana può scambiare di nuovo il sodio e il potassio. Questo è il motivo per cui se voi doveste vedere, come dire, il tracciato di scarica di una potenziale di azione lungo il neurone, vedreste come le lucette di Natale, che il segnale salta da un punto all'altro, ta-ta-ta-ta-ta. In realtà non è che salta, il segnale è sempre lo stesso che passa. Solo in questi nodi si rigenera. E grazie a questo il segnale inviato da un neurone può arrivare addirittura a distanze che sono immense, se voi pensate a quanto è piccolo il neurone, può arrivare anche a coprire due metri di distanza, con un segnale che a livello elettrico è miserabile, perché stiamo a parlare di 100 millivolt, non è che stiamo a parlare della 220, della corrente di casa. Vi vedo un po' sdubbiati su questa cosa della conduzione saltatoria. La seconda lezione di neuronatomia è sempre così, dopo però va meglio, ve lo assicuro. Anche io facevo quella faccia la prima volta e me l'hanno fatta. Però no, non vi preoccupate di questo, perché queste sono le basi anche per poter dire di che stiamo parlando. Il problema è che se noi non spieghiamo qual è l'organo di questa cosa che chiamiamo mente, l'organo dietro questa cosa che chiamiamo mente, la mente finisce sempre un po' inevitabilmente per sembrare una cosa che si chiama anima, questa cosa dematerializzata. Invece no, adesso vedrete che nonostante questo scoglio iniziale arriveremo a capire come mai il neurone è così importante nella sua funzione e nella sua struttura. Adesso c'è una considerazione che possiamo fare. Fino adesso, di che tipo di segnale abbiamo parlato? Qual è il tipo di segnale che abbiamo preso in considerazione? Abbiamo detto che il neurone è una cellula che trasmette un pulso nervoso, questi sono i meccanismi più o meno compresi, più o meno noti, più o meno ignoti, ma il segnale che parte dal dendrite e lungo l'assone arriva al bottone sinattico, cioè questo potenziale d'azione. Che tipo di segnale è? Finora abbiamo parlato di energia elettrica, abbiamo detto che è una differenza di potenziale elettrico e che il neurone emette una scarica elettrica. E non solo. Abbiamo detto che questa scarica elettrica o c'è in quella forma lì, oppure non c'è. Adesso facciamo un'analogia che magari vi aiuta anche a capire un po' meglio questa cosa di tutto e del niente. Così facendo, il neurone assomiglia terribilmente al relè di un circuito elettrico. O spara o non spara. È digitale. O è acceso o è spento. O è zero o è uno. O il neurone sta riposando oppure sta sparando. E se spara, spara sempre in quella maniera là. Ok? Già sarebbe, come dire, uno strumento potentissimo questo qui. Però è anche vera una cosa. Se noi avessimo dei neuroni che sono soltanto in grado di accendersi o di spegnersi, che cos'è che ci distinguerebbe essenzialmente da un robot, da una macchina? Oppure che cos'è che ci distinguerebbe da una serie, da una catena di relè, di un circuito, che se spara il primo poi spara per forza l'ultimo e il secondo. Pensate a questo esempio. Io sono, come dire, davanti a voi, voi dite una cosa e in teoria, come dire, io posso pensare, mi chiedete come ti chiami? E rispondo Mattia. Questa mia capacità di poter verbalizzare il mio nome dipende essenzialmente dal fatto che ho potuto attivare tutta una serie di catene dei neuroni che hanno sparato la corrente e che mi hanno fatto dire Mattia. Mi hanno fatto ricordare come mi chiamavo, mi hanno fatto ricordare il suono della mia parola e mi hanno fatto muovere i muscoli della mia bocca e della fonazione per potervelo dire. Però è capace pure che voi state davanti a me e mi dite come ti chiami? E io non rispondo. Ok? Davanti a uno stesso stimolo. Io posso rispondere oppure non rispondere da un punto di vista nervoso. Ma com'è possibile questa cosa se il neurone abbiamo appena detto o spara o non spara? Se è così automatico sarà anche molto deterministico. Sarà o acceso o spento. E quindi tutta la catena di impulsi che segue dopo o è accesa o è spenta. Ci siete? Questo perché l'impulso nervoso di tipo elettrico è solo metà della storia. Ed è la metà che vuol dire se volete quella un po' più semplice anche da capire no? Perché il neurone o spara o non spara questo è abbastanza pacifico i neuroni funzionano tutti quanti così. Però le sfumature della nostra risposta neurofisiologica e anche le sfumature di quella psicologica come giustamente osservava Giada è dato dal fatto che al di fuori del neurone o meglio nella comunicazione che avviene tra due neuroni le cose diventano molto più complesse. Complesse non necessariamente complicate complesse perché diventano più sfumate. infatti alla fine di ogni neurone abbiamo detto che c'è un bottone presinaptico perché sta prima di questo spazio che noi chiamiamo sinapsi ora ce la vediamo. Il dendrite che tocca lievemente l'assone la fine dell'assone che viene prima anche lui si tocca appena si appoggia però in realtà lo spazio tra di loro è vuoto. questo dendrite cioè quello che viene dopo la sinapsi lo chiamiamo il neurone post-sinaptico. La sinapsi è così importante questo spazio vuoto che c'è tra le che c'è tra due neuroni perché innanzitutto c'è una considerazione se volete anche di ordine storico da fare su questa storia della sinapsi come vi accennavo prima Camillo Golgera Monica Hall vincono entrambi un Nobel soltanto che Golgera era convinto che le sinapsi non esistessero perché i neuroni erano tutti attaccati legati uno all'altro invece era Monica Hall che l'aveva osservato con la stessa tecnica inventata da Golger in realtà motivo per cui si steccano il Nobel era Monica Hall che aveva visto che la cosa non era così aveva visto che i neuroni erano solo appoggiati erano adiacenti tra loro però non c'era una fusione non c'era un legame una connessione era solo giusto apposto aveva ragione era Monica Hall più tardi un altro neurofisiologo inglese che si chiamava Charles Sherrington arriverà per l'appunto a scrivere in un libro molto famoso che si chiama l'azione integrativa del sistema nervoso scriverà che esiste questo luogo questa fessura tra due neuroni tra l'assone di un neurone e il dendrite di un altro che si chiama synapsi dal greco syune aptein cioè toccarsi insieme ma in realtà è proprio immaginatevi no c'è il bottoncino finale dell'assone c'è il bottoncino iniziale del dendrite questi due sono adiacenti tra di loro e in mezzo c'è uno spazio vuoto la sinapsi per l'appunto perché la sinapsi è così importante la sinapsi è così importante perché è il punto in cui il neurone che l'assone del presinattico rilascia una serie di neurotrasmettitori che sono delle sostanze chimiche che sono contenute all'interno di alcune vescicolette eccole qua le possiamo vedere vedete questo qua questo sulla sinistra sulla sinistra è l'assone del neurone che ha sparato il potenziale ok quando la scarica di corrente arriva fino al termine del bottone queste queste bollicine che vedete qua questa inviola che vedete qua si aprono e rilasciano delle sostanze chimiche che si chiamano neurotrasmettitori i neurotrasmettitori a quel punto cominciano a vagare liberamente all'interno della fessura sinaptica dello spazio vuoto nell'immagine lo vedete rappresentato da queste piccole pallette gialle che sono i neurotrasmettitori e le pallette gialle cosa fanno si legano alla la membrana del neurone che viene dopo cioè la membrana che è il dendrite ok come per l'appunto mi chiedeva prima Giulia cioè come fa questo neurone a sparare o non sparare beh prendiamo per esempio proprio questo esempio qui no arriva un potenziale d'azione al termine del neurone il bottone sinaptico si apre rilasciando dalle vescicole tutti i neurotrasmettitori e mettiamo che queste palline gialle che vediamo siano un neurotrasmettitore di tipo eccitatorio il glutamato per esempio il glutamato è il neurotrasmettitore per eccellenza e se vi state chiedendo se è lo stesso glutamato del Dato Star o della cucina cinese sì è la stessa cosa non ci sono differenze è la stessa molecola insomma motivo per cui per l'appunto no è in grado di muovere le molecole dei tentacoli di un calamari queste molecoline di glutamato quelle in gialle si scontrano contro la membrana del neurone dopo e cosa fanno? aumentano o alzano cioè aumentano o diminuiscono quella soglia che serviva prima al neurone per sparare per esempio se le molecoline gialle si legano a questi recettori verdi del dendrite che cosa faranno? porteranno la soglia del neurone da meno 70 mille volta a meno 60 meno 55 a un certo punto arriva a meno 50 il neurone spara avete capito come funziona? il punto qual è? le molecole di neurotrasmissione non funzionano come potenziale di azione non è che se io faccio toccare un neurotrasmettitore al dendrite che viene quello spara per forza deve raggiungere una soglia quindi mentre il meccanismo del potenziale d'azione è un meccanismo di tipo o tutto o niente o 0 o 1 il meccanismo di neurotrasmissione chimica dentro la sinapsi è analogico è sfumato è graduale ok? questa è la vera chiave per comprendere per comprendere il meccanismo di neurotrasmissione e la flessibilità che noi abbiamo nel sistema nervoso noi non siamo delle macchine che se ricevono uno stimolo devono per forza arrivare alla fine della catena ok? noi potremmo avere molti stimoli ad alzarci a livello neuronale ma altri stimoli che ci dicono no non lo fanno sparare per forza vedremo questa cosa è una cosa importantissima è proprio importante per la coscienza per le sostanze psicoattive per l'apprendimento addirittura cioè l'apprendimento avviene nel momento in cui questo giochino del neurotrasmissione riesce a far comunicare due cellule e a spiegargli guarda dobbiamo cambiare la nostra forma dobbiamo cambiare la nostra disposizione ti devi abituare a sparare ogni volta che io ti mando un segnale l'apprendimento da un punto di vista nervoso non è altro che questo ogni neurotrasmettitore e questo è importante si lega a una proteina che sta sulla membrana del dendrite che viene dopo post-sinaptico che si chiama recettore ok allora di regola due neurotrasmettitori non si legano male allo stesso recettore però uno stesso neurotrasmettitore può legarsi a vari per esempio pensate a neurotrasmettitori importanti ubiquitari la dopamina la serotonina che avete sentito sicuramente come dire sui vari social network chiamati il neurotrasmettitore della felicità il neurotrasmettitore dell'amore queste sono generalizzazioni molto stupide in realtà però per esempio la serotonina che è un neurotrasmettitore coinvolto praticamente in tutte le funzioni cognitive di ordine superiore da il pensiero all'immaginazione alla percezione alla felicità perché è così ubiquitario perché è in grado di legarsi a vari recettori quindi agire su vari neuroni ok un'altra cosa importante a questo riguardo è capire come fa un neurotrasmettitore a avviare quel meccanismo di inibizione o di eccitazione del neurone dopo noi usiamo un modello preciso per spiegare questa cosa che si chiama il modello della chiave della serratura cioè voi dovete immaginare che ogni neurotrasmettitore è una chiave che entra perfettamente all'interno di un recettore è come una chiave che entra esattamente in quella toppa lì ci siete su questo vi è chiaro cioè l'assone rilascia il neurotrasmettitore e il neurotrasmettitore si va a infilare nel suo recettore ok questo è il motivo per cui alcune sostanze quelle che noi normalmente chiamiamo droghe o sostanze psicoattive o sostanze psicotrope sono in grado di agire o come agoniste o come antagoniste delle molecole che vuol dire pensate a un esempio facciamo subito un esempio tipico quando voi andate a correre a un certo punto il vostro corpo per cercare di proteggervi dal dolore dello sforzo muscolare che cosa fa? rilascia delle endorfine ok le endorfine che fanno sono dei neurotrasmettitori che si legano a dei recettori chiamati recettori opioidi li saturano e dicono al neurone che viene dopo non partire se c'è dolore stai calmo rilassati che è già affaticato ok l'oppio e tutti gli oppiace e tutti i derivati l'eroina il bigotino il tolato quello che volete funzionano come agoniste quindi che fanno? non sono le vere molecole che noi creiamo nel corpo ma si legano esattamente come se fossero loro dall'interno della toppa questo è il motivo per cui se una persona assume oppio non sente più il dolore come se fosse delle endorfine però all'ennesima potenza ok? altre molecole invece sono in grado di comportarsi da antagoniste cioè che fanno? non attivano il recettore non hanno un effetto sul neurone dopo però bloccano la toppa ok? ci siete su questa cosa qui? questa è una cosa che come vedremo più avanti quando parleremo di coscienze e sostanze stupefacenti è fondamentale per capire come mai alcune droghe si comportano mimando quello che noi facciamo no? per esempio l'esempio classico la dopamina che è un neurotrasmettitore molto importante ora lo vediamo un attimo più nel dettaglio è condizionato tantissimo da droghe come per esempio la cocaina perché che cosa fa quella droga lì? si comporta in maniera agonista o antagonista rispetto a quei recettori lì e quindi altera il modo in cui funziona il nostro cervello i neurotrasmettitori principali i neurotrasmettitori sono tantissimi nel senso che sono sull'ordine delle diverse centinaia però diciamo che questi sono quelli più importanti che noi abbiamo poi non c'è bisogno di ricordarli ovviamente tutti io ogni volta che un neurotrasmettitore sarà particolarmente convolto all'interno di una funzione cognitiva ve lo citerò insomma giusto per farvi avere una mappa generale per esempio abbiamo la dopamina non vi stupite se spesso leggete sui libri dopamina con 2m in realtà il termine tecnico sarebbe proprio con 2m perché tutto questo suffisso sta a indicare che sono molecole che partono dall'ammonia che non ammina viene da quello la dopamina per esempio è un neurotrasmettitore che ha a che fare con la maggior parte delle funzioni motorie ogni volta che ogni volta che noi facciamo un movimento adattativo per esempio ne so c'è Federica davanti a me io prendo una palletta Federica lo prende al volo cervello suo fa un flash cioè rilascia tantissima dopamina per dire al suo organismo brava Federica l'hai presa bene la palletta il movimento era giusto rifallo così la prossima volta ok e non so se avete notato una cosa ogni volta che i bambini imparano ad apprendere un movimento nuovo non so se qualcuno di voi è genitore o genitrice però quando i bambini imparano a camminare anche per i momenti che riteniamo per le manine li facciamo camminare un passo dopo l'altro avete visto i bambini ridono si mettono a ridere sono tutti contenti quando fanno questo movimento oppure quando fanno un movimento nuovo ridono ridono perché stanno fatti hanno un cervello completamente saturo di dopamina perché il cervello solo sta dicendo bravo hai camminato hai messo un passo avanti all'altro continua a fare così continua a fare così questo è lo stesso motivo per cui la dopamina è coinvolta per esempio in tutti i processi di dipendenza ok che la dopamina è il neurodimentitore che dice bravo rifallo ok all'inizio è motorio poi diventa anche comportamentale e cognitivo il fatto che abbia un ruolo fondamentale nei processi motori lo sappiamo perché quando a un certo punto il cervello dei parkinsoniani smette di produrre dopamina cominciano a riuscire più a muoversi ok ci sono un altro importante neurotrasmettitore è la norepinefrina o noradrenalina che lo vedremo via avanti parlando del sistema simpatico è un ormone un neurotrasmettitore che noi normalmente associamo alla paura no l'adrenalina è in effetti come dire un neurotrasmettitore molto coinvolto nel fenomeno che chiamiamo paura che è un'emozione fortissima e fondamentale però diciamo che in generale insieme al cortisolo la noradrenalina è il neurotrasmettitore che regola tutte le attività di allerta o difesa no quelle che noi normalmente chiamiamo fight or flight cioè quando io sono messo alle strette le ghiandole del surrene cominciano a produrre cortisolo e norepinefrina che quando arriva il cervello si trasforma in adrenalina e io so comincio a mi si destringe la pupilla mi aumenta il battito cardiaco comincio a sudare sono più pronto a correre o a lottare poi abbiamo la serotonina che noi sappiamo essere fondamentale all'interno all'interno diciamo di tutti i processi cognitivi che hanno a che fare con l'umore con l'immaginazione con il sonno perché la serotonina di notte smette di essere prodotta e comincia a essere prodotta la melatonina è un neurotrasmettitore molto particolare noi in realtà ne sappiamo poco o niente nel senso della sua farmacocinetica sappiamo molto poco di come funziona anche per esempio nel caso di alcune alterazioni della coscienza però è fondamentale importante e per esempio i soggetti con depressione normalmente hanno una correlazione significativa nel tono della serotonina questo non significa che la serotonina la mancanza di serotonina è essere responsabile della depressione ragazzi nel senso quella potrebbe anche essere una conseguenza non lo sappiamo bene non si capisce bene qual è il rapporto causale sono approcci e teorie che uno c'ha sì prego allora la risposta ufficiale è la DHD io personalmente ho delle riserve rispetto a questa cosa la domanda la ripeto anche per poi magari chi la risente a casa la lezione la domanda che ha fatto Giulia è ci sono delle patologie che sono legate a un'eccessiva produzione di dopamina la risposta ufficiale ho detto che è la DHD anche lì è un po' come la depressione siamo sicuri che è la causa questa o è una conseguenza perché per esempio un soggetto iperstimolato è normale che produca più dopamina poi come dire dire che questa è la causa del fatto che è la DHD è una possibile interpretazione io per esempio non sono d'accordo cioè non penso che ci sia una forte base organica per la DHD ci sono delle conseguenze del fatto di vivere in un ambiente iperstimolato in cui i tuoi genitori non ti guardano mai e ti lasciano davanti al televisore al tablet a cinque anni e poi dici il cervello tuo produce più dopamina sì probabilmente sì non so se questa sia la causa comunque tendenzialmente è questa la risposta ufficiale io però ho delle riserve molto grosse a riguardo una cosa invece sì prego chi è ecco ah già intanto c'è una cosa da tenere a mente la variazione interindividuale ci sono delle persone che hanno degli altissimi livelli di serotonina sono depresse croniche da sempre ci sono persone che hanno la serotonina perfettamente nei limiti o anche come dire con variazioni al contrario e magari sono depressissime oppure stanno bene cioè dipende molto questa cosa qua per questo che vi invito a non ritenerli dei marker molto affidabili il fatto che sappiamo che questi neurotrasmettitori siano coinvolti in determinate funzioni non dovrebbe mai essere scambiato per la causa vi ricordi ricordi quello che ho detto durante la prima lezione quando ho detto correlation does not imply causation cioè la correlazione non implica la causazione perché perché ti faccio un esempio proprio stupido io non lo so se a un certo punto le persone che hanno un basso livello di serotonina per motivi organici per motivi medici diventano depresse però so sicuro di una cosa so sicuro che se io non esco mai di casa sto sempre al buio e non mi muovo mai di serotonina ne produrrò poca è nato primo luogo la gallina la causa qual è comportamentale o neurologica o è un interplay tra le due capisci cosa voglio dire io come dire allora un meccanismo importante della neurotrasmissione è quello che insomma vi volevo spiegare fra un pochino ma ve lo spiego immediatamente è un processo noto come ricaptazione o reuptake è quello che vedete qua ok che cos'è la ricaptazione quando io ho detto quando il bottone presinaptico libera i neurotrasmettitori dalle vescicole ok li rilascia all'interno della fessura sinaptica ci siete su questo? e le molecoline sono libere di circolare a un certo punto che succede? quando è troppo tempo che circolano all'interno della sinapsi possono succedere due cose o si degradano chimicamente e quindi si dissolvono diventando elementi più semplici che poi vengono smaltiti oppure il neurone presinaptico cioè l'assone che li ha emessi può riaprire le vescicolette e riprendersi lì dentro questo processo si chiama reuptake o ricaptazione perché le vescicole ricaptano ok il neurotrasmettitore che hanno emesso in alcuni soggetti i soggetti che noi chiamiamo depressi spesso e volentieri esiste questa funzione per cui la serotonina che emettono non è che sia poca semplicemente dura troppo poco la loro permanenza nella sinapsi ok questo è il motivo per cui come forse qualcuno di voi aveva letto nella slide precedente la classe di farmaci che noi chiamiamo psicofarmaci nella maggior parte dei casi sfrutta un meccanismo che si chiama inibizione selettiva della ricaptazione della serotonina che è il motivo per cui questi farmaci si chiamano SSRI cioè cosa fanno non è come la droga la cocaina o l'eroina che ti dà un agonista un antagonista ok che fa il gioco della molecola naturale che ti manca o meno no il prozac che fa blocca le vescicole dal potersi riaprire e quindi che succede la serotonina che tu naturalmente emetti rimane artificialmente in circolo invece che per 5 minuti per 2 ore e mezza qual è la tipica la tipica facessa della persona che prende psicofarmaci no che prende SSRI sta sempre un po' rintontolita perché i recettori della serotonina sono sempre un po' saturi no perché non può non può essere riassorbita sta serotonina da un riapteic quindi continua a girare in circolo ora questa cosa cambia così tanto il decorso clinico della loro depressione io personalmente non ho mai visto una persona che se sia riuscita a curare la depressione solo con i farmaci ho sempre visto che i risultati arrivavano con la psicoterapia o con l'intervento occupazionale io vi ripeto non mi sentirete mai dire che il cervello non conta perché il cervello è tutto ok o meglio il cervello è la base di tutto però non è tutto cioè la nostra vita psichica è troppo complessa per poter essere spiegata in maniera edizionistica solo dal cervello non so se è chiara questa cosa è importante che voi lo sappiate faccio un esempio se tu vuoi prendere che ne so i disturbi del sonno e se non capisci il rapporto che passa tra serotonina e melatonina difficilmente riuscirai a capire come mai noi dobbiamo dormire al buio per riposare veramente ok e perché la nostra specie si è evoluta per dormire di notte e non per dormire di giorno come fanno altre specie ok però non è che questo può spiegare tutto la complessità tutta la complessità della vita psichica perché c'è veramente molta complessità e ora ci ritorno Silvia no non sono dei palliativi anche su questo no dico non bisogna mai essere manichei ti faccio un esempio classico di questo tipo qua se arriva un paziente a un collega clinico uno psichiatra uno psicologo clinico arriva un paziente con l'ideazione suicidaria e io per prima cosa devo fare devo bloccare l'ideazione suicidaria perché se no questo si butta sotto una macchina o si butta al quinto piano ok quindi che faccio intanto io do i farmaci così almeno mi creo la base no oppure pensa a un soggetto molto violento se io ho un soggetto molto violento non è che lo posso legare alla serie e fargli fare psicoterapia che faccio comincio magari con un tot di farmaci uno stabilizzatore dell'umore un SSRI che lo predispone a stare un po' più tranquillo che magari non gli fa sentire l'ansia tutto il giorno o nel caso degli psicotici le voci tutto il giorno però non basta quello capito cioè non può mai bastare quello quello è un supporto molto valido molto utile come dire il motivo per cui la gente ce l'ha tanto con gli psicofarmaci non è per gli psicofarmaci in sé per sé è perché gli psicofarmaci sono abusati da parte della popolazione della comunità psichiatrica cioè se tu vai da uno psichiatra organicista che non è uno psicoterapeuta che gli dice c'ho la depressione quello ti fa un foglio e ti dice prendete 20 gocce di questo 20 gocce di questo e 20 gocce di questo che magari ti calma però il problema te lo risolve se hai l'ansia è difficile che tu abbia l'ansia per uno scompenso per uno scompenso chimico no? avrai l'ansia perché fai una vita particolare sarai depresso perché c'hai una vita particolare un trauma che hai subito è difficile che è solo il cervello perché altrimenti che ne so tutti quelli che assumono delle sostanze che agiscono su questo ti faccio un esempio proprio da stupidi il triptofano il triptofano è il precursore della serotonina è una molecola che si trova nella carne del tacchino e della gallina e in tutte le verdure che hanno le foglie verdi ok? il triptofano è il precursore della serotonina per cui se io lo ingerisco produrrò della serotonina ok? lo trasformerò a livello metabolico in serotonina io non ho mai visto nessuno essere contento perché mangia tacchino tutti i giorni o essere felice perché mangia tacchino e spinaci tutti i giorni anche io se vedo una persona che non dorme da molto gli dico senti ma perché non ti prendi un po' il triptofano oppure di melatonina che ti aiuta un attimo a riequilibrare il ciclo ma se quello si gira e mi dice se no io la melatonina la prendo però sai continuo a lavorare in un posto in cui mi fanno mobbing sette ore al giorno probabilmente non fa niente quello del triptofano capito? e ti voglio dire la parte diventa diventa molto ampia non più ampia cioè la cosa per cui volevo arrivare alla fine della lezione ma a questo punto ve lo anticipo anche con molto piacere è la seguente voi pensate a tutti gli organi del vostro corpo gli organi del nostro corpo sono tutti bellissimi sono tutti perfetti i sistemi fisiologici sono perfetti sono una cosa meravigliosa cioè a parte l'invecchiamento delle malattie se tu ci vai a pensare da un punto di vista di architettura biologica sono fantastici pensa al sistema cardiovascolare una pompa centrale con un sistema di scambio tra arterie e vene da tutti i livelli dalle arterie principali ai capillari si sa perfetto il sistema della respirazione il sistema endocrino però tutti questi sistemi hanno una caratteristica sono sistemi chiusi cioè il cuore il sistema cardiovascolare si basta da solo ok si scambia con l'esterno che l'ossigeno comunque lo devi prendere da qualche parte da fuori dal corpo però comunque sono dei sistemi chiusi in se stessi bastano loro per funzionare il sistema nervoso è un sistema architettura aperta cioè il sistema nervoso esiste solo la sua funzione si realizza solo quando comunica con fuori ok se tu prendessi un cervello e lo mettessi dentro a una vasca sarebbe un cervello spento sarebbe un cervello morto ora un organo è un sistema che è fatto per un motivo cioè quello di permetterti di comprendere e comunicare con l'ambiente chiaramente c'avrà molto da dovere all'ambiente che sta fuori ok io posso anche essere la persona con il migliore equilibrio del mondo prova a pensare che ne so anche a situazioni patologiche particolari l'Alzheimer noi sappiamo che l'Alzheimer ha una causa come dire fisiologica ben precisa ve l'ho detto prima l'accumulo di proteine tau di beta amiloide ora io ti posso dare tutti i neuroprotettori che mi pare io ti posso riempire di tutti i farmaci che mi pare i neuroprotettori che mi pare se io ti riempio di neuroprotettori ma poi ti parcheggio davanti al televisore a guardare delle novella se tu diventi demente lo stesso ok se io ti do i neuroprotettori e poi mi prendo cura di te parlando facendo le parole crociate avendo un dialogo tutti i giorni in tre ore con un anziano e quello non diventa demente probabilmente diventa demente con molto più tempo anche se non gli do i neuroprotettori capito che voglio dire è importante la parte neurologica ma non è l'unica soprattutto non spiega tutto quanto ok sì va bene come risposta Chiara sì allora io non sono uno psicologo clinico e non sono uno psichiatra ok io sono un teorico uno psicologo teorico perché io vengo da filosofia però come dire posso darti i miei due centesimi rispetto a questa cosa anche dall'esperienza che ho con i miei colleghi psichiatri e psicoterapeuti se io ti do gli antidepressivi e poi ti abbandono a te stesso certo che gli antidepressivi ti fanno stare peggio perché gli antidepressivi comunque sia agiscono in generale sulla ricaptazione ma non in maniera selettiva ok non è che dicono allora quando la serotonina la usiamo per il tono dell'umore non la ricapti invece quando la usiamo per la percezione la ricatti no una volta che è bloccata la ricaptazione inibita è inibita ora la serotonina mi serve anche di solito per fare compiti come per esempio immaginare le cose risolvere dei problemi percepire le emozioni degli altri tanto è vero che giustamente chi di solito riceve un grande trattamento in termini di antidepressivi sta sempre così sta sempre un pochino come posso dire un po' un cuscino intorno perché è un po' l'effetto di questo se ripeto se tu hai un problema tale per cui a un certo punto si ritengono necessari utilizzare degli psicofarmaci allora però gli psicofarmaci da soli non bastano capito se tu usi gli psicofarmaci e poi stai all'interno di una comunità di un rapporto terapeutico di una famiglia di un circolo di amici che ti stimolano che ti aiutano a risolvere il problema vero che ti ha condotto a quella depressione allora il problema lo risolvi se io ti metto in un angolo bombato di SSRI probabilmente come dire non solo non risolverai il problema ma probabilmente lo peggiorerai perché prima stavi male però almeno eri lucido e reattivo adesso stai male ma sei rintontolito c'hai ancora meno capacità di agire spero di aver risposto poi insomma se vuoi ne possiamo parlare anche con colleghi clinici insomma se lo dovete approfondire ma ci mancherebbe Giulia sì allora intanto tutti i sistemi sono aperti anche il sistema cardiovascolare che è chiuso per definizione perché è un sistema proprio chiuso c'è un momento in cui c'è uno scambio polmonare per prendere l'ossigeno e caricare i globuli rossi di ossigeno io ho detto che è un sistema architettura aperta in che senso i sistemi possono comunicare con l'esterno ok però possono anche fregarsene dell'esterno ti faccio un esempio proprio stupidissimo io potrei tranquillamente decidere di tapparti il naso e infilarti un sondino dentro alla bocca che ti manda aria direttamente nei polmoni i polmoni non mi frega niente se l'aria è arrivata fuori da dentro appena è arrivato dell'ossigeno loro fanno il lavoro loro in automatico ok l'architettura è chiusa d'accordo loro fanno quello quello devono fare una cosa che permette al sangue di scambiare ossigeno in nitrite carbonica poi da dove arriva questo ossigeno a me non mi frega niente ci sarà un foro d'ingresso dal foro d'ingresso che arriva va bene il cervello no perché è un sistema d'architettura aperta nel senso che ha bisogno del resto del mondo ti faccio un esempio sciocco tu potresti percepire qualcosa se non ci fosse il mondo esterno intorno a te no potresti apprendere qualcosa se non ci fosse che cosa allora guarda ti faccio facciamo un esempio andiamo un po' nel campo della filosofia della mente però mi fa piacere insomma questo tipo di cosa se allora se c'è la presente il riflesso patellare che cos'è il riflesso il ginocchio quando ti battono col martelletto sul ginocchio se io prendo il riflesso patellare e ti tolgo una martellata sul ginocchio tu lo fai quel movimento come dire lo stimolo è arrivato da fuori però l'azione che fa il riflesso patellare è tua sta là è iscritta all'interno di quello che è il sistema che è quel nervo che ti si attiva il cervello non agisce di per sé a prescindere da quello che succede ok io per esempio non è che se sto in mezzo a degli amici non mi dire il mio cervello funziona a prescindere dal fatto che io stia in una certa situazione in un certo contesto il fatto che io sia in grado di parlare dipende dal fatto che io vivo all'interno di un universo linguistico altrimenti io non potrei parlare il fatto che io che per me l'ambiente intorno a me sociale naturale informazionale non sia semplicemente una cosa su cui il mio cervello lavora o che il mio cervello introietta tipo l'ossigeno dentro i polmoni è proprio come dire è un'architettura aperta tra me tra quello che sta dentro e quello che sta fuori quando noi diciamo che noi non siamo il nostro cervello e che la mente è quello che sta fuori tra il cervello e il mondo è perché il cervello da solo se tu allora mettiamo così c'è un bambino piccolo è appena nato ok io prendo questo bambino piccolo e lo metto dentro una stanza buia per i primi quattro anni della sua vita ok il cuore funzionerà perfettamente quando lo dico fuori da quella stanza il fegato funzionerà perfettamente lo stomaco funzionerà cosa? no vabbè certo non sto dicendo di ucciderlo per per cosa vitale io però io però ti dico che se io prendo un bambino e lo leggo a una sedia e dentro una stanza e gli do da mangiare tutti quanti i giorni gli do da gli faccio respirare ossigeno tutti quanti i giorni i reni funzioneranno lo stomaco funzionerà i polmoni funzioneranno e funzioneranno esattamente come hanno funzionato prima o come funzioneranno in mente perché quello è il lavoro che fa il fegato il fegato quello lì fa ok il cervello se io non lo metto in contatto con un mondo a cui si può appoggiare con cui può costruire un ponte non funziona se io non ti faccio apprendere il linguaggio entro tre anni tu non parlerai mai cioè puoi fare quello che vuoi ma il cervello non è che c'ha visto che c'ha il modulo del linguaggio come diceva Chomsky sbagliando allora parlerà per forza ma il cervello se tu non lo metti in un mondo linguistico non parla hai capito? non è che visto che il cervello ha le aree visive allora tu vedi se ti tengo al buio per tre anni non vedi il cervello ha bisogno del mondo esterno per poter funzionare nel senso non in maniera che c'ha bisogno dell'ossigeno che viene ha proprio bisogno del fatto di potersi confrontare è architettura aperta cioè il cervello non è solo quello che sta qua dentro la mente non sta solo tra le orecchie sta fuori sta nel ponte che si getta tra il cervello e il mondo che sta fuori per questo è un'architettura aperta ok mai capito ok stella sì 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 guarda sì sì era una domanda molto più semplice di quello che pensavi basta che chiedi a un tossicodipendente a un giocatore d'azzardo patologico che cos'è il craving poi lo studieremo anche insieme e allora la dopamina è sempre coinvolta nei meccanismi di dipendenza perché la dopamina è il neurotrasmettitore che regola un circuito cerebrale che si chiama circuito dello stress e della ricompensa ok ogni volta che io faccio qualcosa che mi ricompensa soprattutto dopo un certo tipo di stress la dopamina si libera ok e mi dice ah rifallo dai fa bene ci ha fatto sta bene rifallo sta cosa qua ok quando un cervello diventa dipendente quando un soggetto diventa dipendente appena c'è qualcosa che gli richiama quel piacere che ha provato circuito stress reward comincia a fare fallo 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 questa cosa si chiama craving ok è quello che in gergo tecnico si chiama la scimmia dei dipendenti no cioè la loro incapacità di smettere anche solo di pensare a quella cosa se tu prendi un cocainomane un cocainomane quando gli parte il craving comincia a pensare solo a quello capito non può smettere di pensare non può dire penso altro la sua vita comincia a essere orientata su come faccia ottenere la prossima dose di ricompensa poi ti ripeto non è solo una questione delle sostanze questo vale per il gioco d'azzardo patologico per il sesso patologico per lo shopping patologico ok quando il soggetto smette di essere dipendente che cosa fa? anche lì ci sono due possibilità pensa all'alcol l'alcol è una droga molto particolare ha una capacità di instaurare è una dipendenza terribile molto suddola che cos'è che si fa? tu puoi o dai una persona l'antabuse cioè la medicina che si dà agli alcolisti che praticamente se bevi un goccio d'alcol muori e quindi come dire vivi sotto questo costante ricatto del coma edilico dato dal cover dall'antabuse oppure come tutti gli altri soggetti che cosa fai? cominci a insegnarli non in maniera semplice né in maniera facile a ricablare il sistema nervoso sulle esigenze di nuovi piaceri perché io non posso prendere una persona che ha una dipendenza da sostanze stupefacenti e dirgli vabbè senti adesso la dipendenza la sostanza te lego a letto e ti passerà capito? te le posso legare a letto pure dieci anni quando esci fuori la prima cosa che cerchi è una dose allora che faccio? te lego a letto ovviamente nel senso figurato però poi comincio a farti vedere che per esempio ci possiamo fare una passeggiata e la dopamina si può ottenere anche da una passeggiata certo il circuito stress reward ci metterà un pochino a ricalibrarsi perché non è così tanto abituato che c'è come dire soddisfazione facile che non sarà facile come percorso però è quello che poi ti cambia si devi fare proprio una lotta cioè devi proprio fare una lotta guarda ti spiego questa cosa qua che forse può rispondere a tante domande che avete fatto fino adesso forse anche alla domanda di Giulia di prima no? se io assumo del che ne so dell'MDMA dell'ecstasy adesso in questo momento io sarò gonfio di serotonina dentro al mio dentro al mio cervello che è il motivo per cui una droga come l'MDMA ha un famoso effetto in patogeno cioè mi fa sentire più gli altri poi bene a tutti poi abbraccio a tutti e che sei gonfio di serotonina il problema è che se io sto con il mio miglior amico e lui mi fa una confidenza io gli dico quanto sono felice di quello che gli sta succedendo i nostri cervelli si riempiono immediatamente di serotonina capito? voi non dovete mai pensare che c'è una specie di determinismo causale dal cervello alla mente il cervello e la mente sono due sistemi sono due parti di uno stesso architettura aperto di uno stesso sistema aperto sono due espressioni differenti una è neurologica è una base fisica alla mente e l'altra è tutto il set di attività che un cervello rende possibile però i meccanismi di comunicazione tra il cervello e la mente sono bidirezionali sono anche multidirezionali in realtà capito che voglio dire Stella nel senso è chiaro che se io ho un dipendente da gioco d'azzardo magari come dire se è arrivato a spendersi i miliardi all'otto uno stabilizzatore dell'umore è un calmante magari uno glielo segna pure anche solo per permettergli di stare più tranquillo e di presentarsi effettivamente alle sedute di psicoterapia ma poi il grosso fa psicoterapia perché è quello che ti cambierà Giada sì a Bateson Gregory Bateson è un po' di No, no, scusa, scusa, vai. Allora, guarda, capisco cosa vuoi dire e capisco anche perché fai questo tipo di associazione. Chiaramente sì, il fatto di parlare di architettura aperta, noi lo diciamo perché oggi viviamo in questo paradigma che è la neuroscienza e la psicologia delle quattro E, di cui una è quella extended, quindi abbiamo capito che la mente sta molto più fuori dal cervello di quello che pensavamo. La lettura di riferimento per approfondire questo tema è un libro scritto da un filosofo della mente che si chiama Alva Noe, proprio come lo leggi e come lo pronunci, che si chiama Perché non siamo il nostro cervello in Italia edito da Cortina. Per quanto riguarda Bateson, sì, io capisco, cioè all'interno di quel libro è non soltanto, anche di un'ecologia della mente, ci sono delle cose che si possono ricondurre a. Però chiaramente sono due discorsi molto differenti, intanto perché sono passati 40 anni tra il primo libro e l'altro, secondo perché Bateson aveva tutta un'impostazione, che era un'impostazione, come dire, particolare, quella che noi chiamiamo sistemico-relazionale, e oggi lo consideriamo un po' il padre dell'approccio sistemico-relazionale, ma noi lo sapevamo anche da prima della svolta extended che le relazioni erano importanti, però non avevamo capito che le relazioni erano così costitutivamente importanti, pensavamo che fosse la comunicazione, una cosa del genere. Chiaramente la questione è molto più complessa, perché, non so, io vi faccio un esempio da un'altra disciplina che insegno, dalla psicologia sociale, ma insomma può tornare sempre utile. Esiste un modello per spiegare il sé in psicologia sociale che si chiama il modello della sovrapposizione del sé. Vi ricordate quando c'erate 14 anni e ci stava la vostra amichetta, il vostro amichetto del cuore, che non era l'amichetto del cuore, no? Era proprio tipo una cosa che se o lo offendevano o la offendevano, voi sentivate l'offesa su di voi, ok? Lei stava male, stai male pure tu. È una cosa che succede spesso, per esempio, tra innamorati, no? Cioè le persone che si amano si fondono l'una con l'altra, in un certo senso, psichicamente. Se tu tocchi mia moglie stai toccando anche me, se tu tocchi la mia famiglia stai toccando anche me, non è un modo di dire. Cioè il mio sé, che è un costrutto psicologico di altissimo livello, in realtà pochissimo del sé è all'interno del sistema nervoso centrale, no? Magari quando parleremo delle sostanze d'abuso ve lo spiego anche un po' meglio rispetto a certe droghe che influiscono su questo, però il cervello è solo una parte del sistema, capito? Il resto del sistema sta fuori, non sta dentro. Capite che voglio dire? Comunque prova a leggere Alvanoe, che forse è la cosa migliore da fare in questo riguardo. Silvia, non so se hai rialzato la mano. Sì, prego, scusami perché vi perdo. Anzi, se non è, grazie, se no vi perdo. Vai Silvia, di. Devinisci. Allora, guarda, ti devo dare una brutta delusione, va brutta, però. Allora, noi nasciamo con pochissimi riflessi, sono sette i riflessi neonatali, e... no, 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 i riflessi sono innati, ok? Cioè i riflessi sono innati, però a provanza dei riflessi che abbiamo ancora oggi, no? Per esempio, come ne so, riflesso patellare, che dicevo prima, quello quando ti battono il martelletto sul ginocchio, oppure un riflesso, come dire, di cui ci rendiamo poco conto, ma che è essenziale, l'accomodamento della pupilla. Io adesso guardo la luce sopra, la mia pupilla per riflesso si è restretta, no? Se io adesso si abbassasse la luce all'interno di questa stanza, la pupilla per riflesso si accomoderebbe. Noi quando nasciamo, noi nasciamo con circa sette riflessi neonatali, per farti capito, il riflesso di prensione, quando il bambino stringe tutto quello che gli capita tra le mani, oppure il riflesso di suzione, quando succhiamo il capezzolo della nostra madre. Noi fondamentalmente passiamo l'esistenza, cioè i primi anni della nostra vita, i primi mesi della nostra vita, a liberarci dagli istinti, perché gli istinti sono l'esatto, è l'antitesi dell'essere umano. Cioè se tu ci pensi, l'essere umano c'è una cosa che sa fare, noi siamo delle seghe a fare praticamente tutto, non ci abbiamo artigli, non ci abbiamo ali, non ci abbiamo denti, non ci abbiamo la pelliccia. Una cosa sappiamo va bene, cioè sappiamo imparare le cose. Tanto è vero che poi lo vedremo, noi passiamo circa vent'anni come cuccioli, nella vita, è tantissimo se ci rifletti. Perché lo facciamo? Perché massimizziamo il periodo dell'esperienza. Perché se noi invece, come dire, avessimo dei forti assetti istintuali, come per esempio il gatto mio, il mio gatto dopo una settimana è un adulto dopo che è nato, se svezza in una settimana e poi sta a posto, perché lui ce l'ha come istinto quelle cose che fa, però poi fa solo quello, può imparare molto poco rispetto a me. Io invece sono in grado praticamente di imparare di tutto. Non è vero che noi ci abbiamo, come dire, noi sappiamo che il fuoco ci fa male, assolutamente. Noi ci scottiamo e poi capiamo al volo perché il cervello dice dolore, quella cosa non la devi più fa. Ok? Però provate a pensare a una cosa, no? Perché i nostri genitori o i nostri caregiver sono stati costretti a un certo punto a venire da noi a sgridarci facendo devi guardare per strada quando attraversi oppure non si mettono le mani dentro la presa. Perché noi l'avremmo fatto? Noi non abbiamo affatto autocontrollo. Noi possiamo contare su un solo autocontrollo che è la paura. Che non a caso è l'emozione più forte che abbiamo, no? Paura e dolore sono un po' le chiavi di tutto quanto. Cioè, le cose che ci fanno paura o le persone che ci mettono paura rispetto a qualche cosa ci aiutano a Dio però aspetta, questa cosa non la devo fare, no? Dopo che mamma ha urlato per dirti non mette la presa nella corrente tu gli puoi anche chiedere perché. Però quando sei piccolo te in realtà ti frega niente del perché. Cioè, non è che ti poni il problema che ci avranno questi tre buchetti nel muro di così speciale. Ha urlato mamma fa paura non lo tocco più. Quando è che smettiamo veramente di... Quando è che cominciamo a dire devo stare attento quando sto giocando quando sto avvicino ai fornelli? È il giorno che facciamo così ci scottiamo e la facciamo un condizionamento classico molto forte è un'associazione tra il dolore e quello che abbiamo... Scusa, è operante non è classico. Un'associazione tra l'azione che abbiamo emesso e la risposta che abbiamo ricevuto dall'ambiente e là impariamo a non farlo. No, no, però cioè come dire noi non partiamo con una grandissima carica di autocontrollo capito? Cioè, tant'è vero che anzi in realtà passiamo quasi la maggior parte del tempo della nostra vita a fare delle ediozie da cui però poi fortunatamente con buona nella maggior parte dei casi ci salviamo per cui impariamo che non lo dobbiamo più fare. Ok? Non so se ho risposto a questa tua domanda insomma poi l'autocontrollo di solito è anche quella è una cosa che impariamo no? Cioè, perché poi è difficile parlare di autocontrollo impariamo l'autocontrollo come dire è quel quel processo cognitivo per cui noi decidiamo e impariamo a sopprimere deliberatamente una risposta ok? Cioè, non so tu dove sei Silvia di Roma non ricordo e quindi ce l'hai la patente tu Silvia quindi conosci bene quella sensazione che c'hai di fare un mercoledì da leoni no? Prende tipo il cric e cominciare a distruggere tutto sui consolari perché la gente nel traffico e l'ho provato stamattina sul 51 sembrava di stare veramente all'interno del Colosseo ai tempi dei martiri dei cristiani c'è tutta gente che è aggressiva tu che fai? l'istinto sarebbe quello di accodarti a questa botta di aggressività però dici no, non lo faccio stai tranquillo però lo impari perché i bambini sono così istintivi perché i bambini parlano senza pensare no? i bambini sono quelli che normalmente a un certo punto se ne escono fuori e ti dicono Luca è ciccione capito? e ti rendi anche conto di tutta una serie di cose per esempio non so se hai fatto caso poi ne parleremo quando parleremo dello sviluppo hai mai fatto caso che al bambino se tu gli dici vabbè ma non si dicono queste cose pensa se te le avessero detto a te e lui risponde ma io non so ciccione no? perché questo è il pensiero questo si chiama pensiero ecocentrico allora lo sai allora non ti sto di niente di nuovo questa cosa qua è proprio perché dei soliti i bambini hanno un pensiero che è molto ecocentrico e a meno che tu non glielo imponi di avere paura di controllarsi loro tendono a non farlo però anche il gioco dell'educazione è anche questo capisci? cioè è perdere quegli istinti di base che sono comodi all'inizio ma che poi celegherebbero tanto cioè a noi non ci piacciono gli istinti ci danno fastidio perché noi siamo una specie che impara e quindi vogliamo che le nostre comportamenti le nostre cognizioni siano appresi da noi non innati noi di nato ci abbiamo veramente molto poco come dire ci abbiamo più che altro delle finestre di tempo nello sviluppo del cervello che ci dicono adesso è il caso di poter fare questo perché per esempio pensa al linguaggio a due anni e mezzo il cervello tuo comincia a essere iperattivo nelle aree che servono a imparare il linguaggio si chiama periodo critico però poi una volta che il linguaggio l'ha imparato quel meccanismo di come dire spinta istintuale si ferma tanto è vero che se tu provi a imparare una lingua a 30 anni è molto diversa da imparare da tre discorso particolare poi magari quando ci ritorniamo su vari aspetti richiedimela questa domanda qua sull'autocontrollo poi anche quando facciamo motivazione e personalità ci sono delle persone per esempio che hanno molto più autocontrollo rispetto a altre a seconda però anche qui per ritornare su quello che diceva Giulia il controllo non sta mai nel cervello ci sono persone che dipende tutto dal rapporto che tu hai con l'ambiente intorno a te ci sono persone che se fanno male l'esame con me dicono ho studiato poco hanno un locus del controllo interno si dice oppure persone che dicono il professore è cattivo oppure vedi ogni volta che faccio l'esame di giovedì va male locus del controllo esterno quindi tutto quanto è come dire il cervello ti mette in condizione di fare delle scelte di aprire delle possibilità poi inevitabilmente è sempre l'esperienza nella nostra specie più che mai capito cioè noi siamo proprio l'animale per eccellenza che è fatto per imparare dall'esperienza e non dagli stenti noi di nato abbiamo poco o niente spero di aver risposto tutto dipende anche dal confronto dipende quasi tutto dal confronto quello che cercavo di spiegare prima a Giulia è esattamente questo quello che cercavo di spiegarle prima è se tu prendi un cervello e lo metti in trana vasca il cervello non funziona solo perché è il cervello capito se tu prendi un bambino e lo chiudi per i primi tre anni della sua vita entra a una stanza un bambino non penserà mai non ragionerà mai cioè il cervello il cervello è la base da cui parte la possibilità della condizione a seconda di che cosa succede nell'ambiente ma l'ambiente è molto importante noi oggi facciamo molti discorsi legati a questa cosa che accennava prima già la mente estesa una volta facevamo un discorso per cui dicevamo hai visto quanto siamo bravi per scaricare il per scaricare il peso cognitivo del nostro cervello rispetto alla memoria usiamo i tacchini ok usiamo degli strumenti che sono esterni la verità è che gli strumenti esterni non sono semplicemente degli appoggi non sono semplicemente dei bastoni pensa al linguaggio no tu il linguaggio Chomsky dice c'è un dispositivo di acquisizione linguistica all'interno del nostro cervello e questo dispositivo di acquisizione linguistica è un modulo innato che permette a tutti gli esseri umani di imparare un linguaggio quello che scorta di dire Chomsky è che se tu una persona non la fai parlare con un'altra se un bambino non lo fai parlare con un adulto il bambino non imparare proprio niente non è che basta averci il cervello per poter avere il linguaggio il linguaggio è una funzione che per definizione sta nella relazione con l'altro se tu prendi un bambino e lo metti in mezzo a una comunità di cinesi e spagnoli quello alla fine parla cinese e spagnolo se tu lo metti all'interno di una comunità di italiani parlerà italiano il cervello è lo stesso le aree sono le stesse ma cambia tutto quanto ha la stessa maniera pensa a questioni come la personalità ok il cervello mio è lo stesso di mia sorella e siamo pure vissuti nella stessa famiglia però per motivi ambientali contestuali culturali abbiamo due caratteri che sono completamente differenti tra di noi ok il cervello è lo stesso il cervello dei gemelli è lo stesso se tu però un cervello lo metti ti posso fare ad esempio proprio guarda l'hai mai visto una poltrona per due l'avrei visto sicuro 25 dicembre hai visto una poltrona per due la poltrona per due che cos'è è tutto il discorso che si fa è la natura o la cultura che ti fa diventare un essere umano la natura è l'interplay è il gioco tra natura e cultura tu hai un cervello che è fatto in una certa maniera per cui per esempio io sono un essere umano quindi se tu mi esponi a uno stimolo linguistico dai due anni ai cinque anni io imparò a parlare quella lingua che sento ok il cervello mio è stato selezionato per averci come dire quel tipo di apertura ma poi ci deve stare l'apertura e devo trovare qualcosa al di là dell'apertura altrimenti non succede niente non mi imparerò mai a parlare ok spero di averte risposto poi tanto ci ritorniamo ci sarà un modo Giada hai cambiato location vedo molto bene molto bene va bene allora visto che no si è ricordata vai allora Allora, è lo stesso nella misura in cui il mio corpo e quello di qualsiasi altro essere umano è uguale, poi anche là uguale, uguale fino a una certa, nel senso c'è una differenza tra genere, c'è una differenza tra profili, come posso dire, scusate sto qua dagli americani quindi mi verrebbe da usare una parola che per noi non ha senso, diciamo l'etnia, i tratti somatici, i tratti somatici di base etnia, ci sono delle differenze tra gli esseri umani però il progetto stesso, a meno che tu non abbia una malattia, un disturbo, una condizione genetica che non ti fa sviluppare il sistema nervoso come gli altri, il sistema nervoso mio e il sistema nervoso tuo alla nascita hanno le stesse potenzialità, seguono lo stesso schema, seguono la stessa struttura, mentre io articolo le parole con la bocca sto attivando tra le tante cose l'area di Broca, quando tu parli con la bocca stai attivando l'area di Broca, detto questo, l'uguaglianza finisce là, perché poi c'è che cosa? C'è il tuo, sono 100 miliardi di neuroni, ognuno che si lega con l'altro, fanno tutti tracciati, è chiaro che io e te abbiamo, abbiamo dei tracciati diversi, abbiamo avuto esperienze diverse, ok? Però sulle funzioni basilari sono sicuro, per esempio tu i volti li vedi come me, con la girofusiforme, la bocca la muovi, la bocca e la mano destra la muovi come me, con l'area di Broca a sinistra, la rappresentazione corticale del tuo corpo, cioè il modo in cui il cervello elabora le informazioni sul tuo corpo, stanno tutte nel lobo parietale, tutti gli esseri umani, ok? Poi però per esempio le cose possono cambiare molto, un mancino mica controlla Broca della bocca a sinistra, controlla a destra, è sempre l'area di Broca, però c'è il cervello invertito per certi aspetti, no? Poi non è vero che è solo spostata la specializzazione funzionale. Se tu prendi due gemelli, i due gemelli hanno anche il codice genetico uguale, ma poi per esempio tu a uno lo fai coccolare dalla madre, all'altro invece lo abbandoni a se stesso, l'espressione dello stesso codice genetico sarà radicalmente differente, capito? Ti voglio dire, è questa la questione. Va bene ragazzi sentite, ve posso dire l'ultima cosa su questo, cioè sulla metà del programma che ho fatto oggi, perché chiaramente l'altra metà ve la dovrò registrare appena ho un attimo di tempo e caricarla, perché come dire c'è una parte anche abbastanza importante in realtà sul sistema nervoso pure e proprio, adesso non so come fare, a me voi avete capito che mi piace tanto fare i dibattiti con gli studenti, quindi voi continuate a domandare, che io sono contento, però ogni tanto qualcun altro mi dica pure, professor vai avanti, Mattia vai avanti, se no finiamo più. Allora c'è una cosa che vi volevo dire, che è la seguente, vado direttamente a dove devo andare, così comincio a introdurre questo concetto che poi vi troveremo più avanti nella lezione che vi registrerò e anche negli altri temi. Quando due sinapsi si scambiano delle informazioni chimiche tra di loro, sono in grado di, come posso dire, insegnarsi a vicenda sulla base dell'abitudine che c'è stata una comunicazione, ok? Questo avviene attraverso un meccanismo generale che si chiama plasticità sinaptica. Vedremo che questo concetto, il concetto di plasticità, è un concetto fondamentale. Se volete la caratteristica principale per cui un cervello è un'architettura aperta è proprio perché è plastico, cioè è in grado di modificare le connessioni, le funzioni delle sue aree sulla base dell'esperienza, ok? In particolare a livello della sinapsi avviene questo meccanismo che si chiama potenziamento o depressione, a seconda che la membrana si allarghi o siete stringa, a breve o a lungo termine della membrana sinaptica. Che significa? Pensate a una cosa, no? Pensate a... c'è qualcuno o qualcuna tra di voi che suona il pianoforte? O la chitarra? Stella, ecco. Stella probabilmente ci può raccontare, ho visto solo Stella perché magari c'è sicuramente qualcun altro. Stella ci potrà confermare, o anche qualsiasi, chiunque di voi, che la prima volta che ha messo la mano su un pianoforte, c'è... erano come se le dita ancora dovessero trovare, era uno sforzo in singolo gesto, no? Per capire qual è il dito che deve andare sul tasto, qual è il tasto, come faccio a muovermi. Poi a un certo punto, con la ripetizione dell'esperienza, cosa è successo? È successo che questo movimento è diventato sempre più facile per Stella. Da un punto di vista nervoso, cosa è successo? Le catene di neuroni che costituivano il circuito, in questo caso specifico, della capacità di Stella di suonare il pianoforte, hanno... che cosa hanno fatto? Hanno sparato in continuazione per dire, quando devi fare quella nota, muovi la mano su quel tasto lì. Ok? Hanno attivato delle connessioni su questo circuito dei neuroni. A forza di continuare a sparare quell'informazione, che cosa succede? Succede che le membrane, per facilitare lo scambio, si allargano. Le membrane delle sinapsi si allargano, proprio diventano più grandi, ok? Di maniera tale che c'è più membrana, c'è più superficie, ci sono più recettori, è più facile capire o meno uno stimolo. Ok? Ogni volta che noi impariamo a fare qualcosa di nuovo, dobbiamo insegnare ai circuiti di neuroni che comunicano tra loro tramite sinapsi, se è il caso di allargarsi o, al contrario, se smettiamo di praticare uno sport, per esempio, le sinapsi, le membrane delle sinapsi si restringono, si deprimono, si dice in gergo tecnico. Questa cosa è particolarmente importante perché, come potete facilmente intuire, è la base neurobiologica dell'apprendimento. E in particolare segue una legge, che a questo punto vi diventerà molto più chiara poi quando studieremo l'apprendimento, che si chiama legge di Hebb. E in inglese la legge di Hebb è recita presto a poco così, neurons that fire together, wire together, cioè i neuroni che sparano insieme, si collegano insieme tra di loro. Quando noi compiamo un gesto che non abbiamo mai compiuto, ora io non mi azzardo perché probabilmente me lo rovescerei addosso e distruggerei il computer, ma se io cominciassi ad allenarmi a usare questo spruzzino come una specie di clava, i primi tentativi sarebbero molto goffi, perché? Perché la coordinazione tra l'occhio e la mano, quel oggetto, il peso di quell'oggetto, per fare quel movimento specifico all'inizio sarebbe tutto molto farraginoso, cioè sperimentarlo per la prima volta, con la ripetizione a un certo punto sparando insieme questi neuroni, si collegheranno insieme, sempre in senso figurato perché non si toccano, cioè aumenteranno le membrane sinaptiche e quindi la scarica di quel determinato impulso sarà facilitata. Allora, non so se vi è chiara questa cosa qua, io vi chiederei a questo punto se ci sono altre domande, come dire, se non le avete esaurite tutte quante nel momento precedente. Bravo, bravissimo, esattamente quello lì. Allora, questo vale in particolare per le cose che noi impariamo da piccoli, ovviamente, perché da piccoli c'è più plasticità, più siamo piccoli più siamo plastici. Verso i 18-20 anni arriviamo su una fase di plateau, poi rimane quella. Poi noi come specie siamo fatta per imparare, per cui in realtà per noi è facile anche continuare a imparare dopo. Io ho imparato, per esempio, agli rudimenti del tedesco, perciò avevo 28 anni. Certo, rispetto al francese o all'inglese, come dire, lo trovo molto a più difficoltà. L'altro lo associato quando ero piccolo, per cui era più facile. Ma non è solo per la memoria meccanica, Giuseppe, è per tutta la memoria e tutto l'apprendimento. Cioè non è qualcosa che ha a che fare soltanto con una forma dell'apprendimento. L'apprendimento proprio è dato dalla plasticità. La capacità che io ho di modificare le connessioni del mio cervello è la traduzione, in senso neurobiologico, della mia capacità di apprendere. Vabbè, ragazzi, sentite, se non ci sono delle domande, io vi saluterei, visto che abbiamo fatto le due, e cercherò di tornare a casa un po' prima per cercare di registrare anche il resto della lezione. In ogni caso, se volete, le trovate già online, queste sul sistema nervoso, queste le potete anche andare a rivedere sugli altri video, senza problemi, perché il cervello è sempre quello, insomma, non è mai cambiato e probabilmente non cambierà per molto tempo. Magari vi mando i video giusti da consultare, così facciamo anche quest'altra parte, e poi magari facciamo un wrap-up venerdì per vedere, insomma, se ci sono dei dubbi o se ci sono delle richieste di chiarimento. Va bene? Certo, Silvia? Certo che sì. A me? Scusami, non l'ho visto, lo so, vivo... No, ma no, mica è un problema, non è un problema, però... No, 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 non è un problema, Silvia, però devi sapere, ve lo dico subito, così... Anzi, aspetta, fammi tagliare la registrazione.